La settimana particolare sicuramente sì, perché è vero che sino a mercoledì la delusione era presente e da mercoledì però poi la delusione è stata trasformata in concentrazione, in motivazione, in emozione. Credo che ci sia una mischia di sentimenti dentro di noi in questo momento, che è concentrazione, che è determinazione, che è un po' di tensione, che è giusto che ci sia, ma poi dopo siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile, quindi abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa partita. Il Milan ci deve credere perché ha dimostrato in tutto il campionato di essere una formazione forte, di essere una formazione molto vicina alle formazioni migliori del campionato. Sappiamo che affrontiamo l'Atalanta che meritatamente per la terza stagione consecutiva è andata in Champions, però il Milan ci deve credere perché ha le qualità, per crederci, perché ha dimostrato di avere le qualità, di avere lo spirito, di avere gli atteggiamenti, la volontà, la generosità di essere una grande squadra. Perché è dal 17 settembre che giochiamo una partita ogni 4-5 giorni, non ci siamo mai arresi, non abbiamo mai perso fiducia, ma non abbiamo mai perso convinzione nelle nostre qualità, perché sappiamo che domani dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Rebic a oggi è più no che sì, vediamo però domani mattina. Gli altri stanno bene, sono in buonissime condizioni e quindi domani poi partiremo. È una squadra che non ha mai avuto paura e poi la paura è come il fuoco. Se lo gestissi bene, lo controlli, ti scalda, altrimenti ti vai a bruciare. E quindi noi dobbiamo gestire bene questa situazione. È chiaro che è un percorso anche di crescita e abbiamo però affrontato altre partite così importanti, così delicate, dove il risultato era determinante. La squadra ha sempre dimostrato un atteggiamento mentale positivo, forte. Ripeto, siamo sempre stati molto convinti, non ci siamo mai arresi, non ci siamo mai abbattuti. Quindi questa settimana ho visto le cose che dovevo vedere, che dovevo vedere per la partita di domani. Ripeto, 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 ripeto.